L'antidoto più efficace contro ogni forma di violenza è l'educazione alla scoperta e all'accettazione delle differenze. È la riflessione contenuta nel discorso di Papa Francesco ai viscovi della Conferenza Episcopale Regionale del Nord Africa, ricevuti in Vaticano in occasione della loro visita ad limina apostolorum. Pensando alle tante difficoltà che incontrano i discepoli di Cristo nella regione, non di rado in contesti di violenza e intolleranza, il Pontefice ha espresso soddisfazione per l'impegno della Chiesa e per la testimonianza al Vangelo che rendono i suoi membri, ribadendo l'importanza del dialogo interreligioso. La non conoscenza dell'altro, ha rimarcato Papa Bergoglio, porta non di rado a incomprensioni e a scontri. Di qui l'invito, anche alla luce dei tanti esempi di santità che vanta il Nord Africa, a essere uomini di speranza e a farsi ogni giorno promotori di riconciliazione, giustizia e pace. Siate una Chiesa in uscita, a concluso, e manifestate sempre la presenza viva di Cristo, soprattutto tra gli ultimi.